ciao ragazzi allora come dicevamo nel video di presentazione l'altra volta questa qua sarà la settimana del reg, perché del reg? perché io considero il reg un genere molto 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 interessante è un genere che stimola dove sta appunto la bellezza di questo di questo tempo del reg intanto sta nell'imparare a cantarselo per esempio immaginiamo questo pezzo ok ce lo cantiamo ok intanto se noi iniziamo a cantarcelo un po' ci renderemo conto anche che suonarlo non sarà poi così complicato però è bello raga è meraviglioso il reg, io lo so fissato il reg proprio perché è una cultura che piace mi piace molto come tutti i ritmi latini e cubani no? brasiliani cioè a me piace la musica aritmata ok perché il ruolo del batterista è anche un po' quello no? va bene che portiamo i quattro quarti portiamo tutti i tempi e va bene però cavolo il batterista deve essere anche un po' stimolato secondo me giusto? ora io farò due versioni una versione sarà appunto il classico reg ok quindi con qualche cosa che poi vedrete e la seconda versione sarà un reg dove io partirò con una base reg e poi inizierò a fare delle variazioni grandissime ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti